Mancano ormai quattro giorni alla scadenza del pagamento dell'Imu. La data fatidica è quella di lunedì 18 in cui andrà versato l'acconto mentre il saldo è previsto per il prossimo 17 dicembre. Ed intanto la gente è preoccupata ed arrabbiata perché l'Imu colpisce anche la prima casa aggiungendosi alle altre scadenze che pesano già sulle tasche dei contribuenti. Il mio problema principale, penso di buona parte di italiani, è che mandano delle tasse sempre nuove come se in casa si lavorasse tutti mentre la maggior parte lavora poca gente e gli sprechi sono tanti specialmente quelle che ci impone lo Stato. Se ne toglie una vecchia, se ne mette una nuova, la gente entra in confusione. C'è questa nuova tassa da pagare e essendo io un po' all'oscuro dei dettagli sono venuto qua a chiedere al ragioniere dettagli in merito. Ormai sono gli ultimi giorni per cui è una corsa e bisogna obbligatoriamente pagare questa prima anticipazione. Sì, è una corsa e purtroppo essendo io fuori sede come lavoro ho pochi giorni limitati ed è una corsa proprio per questo motivo. Ed intanto, mentre regna la confusione totale, aumentano le file nei patronati e nei punti CAF presi da assalto in queste settimane. Chiaramente noi come operatori del settore siamo impegnati quasi costantemente mattina e pomeriggio per aiutare e assistere le persone a calcolo di questa imposta che è partita a partire dal 1 gennaio 2012. Che tipo di problematiche sono più presenti? Le problematiche riguardano l'impostazione dell'abitazione principale in quanto viene considerata un'aliquota proprio per l'abitazione principale e per la pertinenza e viene dato per l'abitazione principale e pertenenza appunto 50 euro per ogni figlio che nel 2012 non abbia superato 26 anni. Quanta gente viene a chiedere consiglio? E' venuta tantissima gente. Il problema è che quest'anno si paga l'abitazione principale però ci sono anche delle detrazioni che dà il comune per i figli a carico la moglie insomma tutisce un po' la botta del pagamento del limo. Il problema serio qual è? Che il governo ha detto che si paga 4 per mille per la prima casa la seconda casa è 7,6 per mille però questi numeri dovrebbero, speriamo di no, cambiare a dicembre da parte del comune o del governo se non riesce a trovare soldi per, come si sol dire, tappare il buco che ha l'Italia e i comuni. Quindi stiamo a vedere ora quello che succede a dicembre. Comunque sta venendo dura quest'anno, intanto per la confusione che si è creata un po' per la gente e principalmente perché non ci sono soldi e quindi la gente comincia ad avere anche problemi.